Grande Fratello 2018 Grande Fratello 2018, la confessione a luci rosse, ecco cos'è successo de notte Al Grande Fratello 2018 è tempo di nuove confessioni a luci rosse e in queste ultime ore i concorrenti rimasti in casa, convinti di non essere ripresi dalle telecamere del reality show di Canale 5 Si sono lasciati andare a delle rivelazioni clamorose che non sono passare affatto inosservate Nel dettaglio Danilo e Filippo hanno raccontato degli episodi bollenti del loro passato e in particolar modo della loro vita sessuale Danilo la rivelaziona a luci rosse nella casa del Grande Fratello Il primo a lasciarsi andare a questo tipo di confessioni bollenti è stato Danilo Il quale credendo che ormai fossero passate le due di notte e quindi che le telecamere del GF15 avessero interrotto la diretta su Mediaset Extra in streaming Ha rivelato che in passato ha avuto un rapporto sessuale con l'amica di sua mamma. Una rivelazione a dir poco clamorosa Che poi è proseguita nel momento in cui Danilo ha confessato che sua mamma ha scoperto i due sul fatto e che suo padre di tutta questa situazione è completamente all'oscuri, altrimenti lo avrebbe massacrato Come vi dicevamo Danilo credeva che ormai non fosse più ripreso dalle telecamere e per questo motivo si è lasciato andare a questa confessione bollente con gli altri maschietti della casa Ma come vi dicevamo i ragazzi erano ancora live su Mediaset Extra e quindi il pubblico da casa ha avuto la possibilità di ascoltare il tutto La confessione bollente di Filippo Ma non è finita qui, perché durante la notte ci sono state anche le confessioni bollenti di Filippo, che nella casa sta provando a costruire una storia d'amore, tra alti e bassi, con la bella Lucia Ebbene Filippo ha parlato della sua periodo adolescenziale e soprattutto del periodo in cui ha scoperto per la prima volta l'autoerotismo Rivelando che quando era poco più che un ragazzino si praticava autoerotismo a vicenda con suo cugino Tra maschi è normale, non c'è nulla di male, ha dichiarato Filippo all'interno della casa del grande fratello Quindici Aggiungendo poi che tra le sue attrici preferite quando pratica l'autoerotismo guardando dei video e filmati in rete B è mille da braccio, tra le più famose attrici a luci rosse del panorama italiano Insomma una serata all'insegna di confessioni bollenti per i concorrenti della casa del GF 15 che si avviano verso il gran finale di questa edizione Martedì prossimo, infatti, andrà in onda la semifinale del reality show condotto da Barbara D'Urso Martedì prossimo, infatti, andrà in onda la semifinale del GF 15 che si avviano verso il 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 GF